Ehi là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questo nuovo video Siamo su Mario Kart 8 Vi avevo detto, tempo fa, tipo quest'estate praticamente Vi avevo detto che avrei fatto dei video su Mario Kart 8 Insieme a Mr.Bob e magari anche altri miei amici L'unico problema è, praticamente noi avevamo registrato i video, no? Avevamo tipo registrato una sera, uscivano due video, sarebbero usciti due video, no? Solo che praticamente avete presente che vi ho raccontato di sto mio problema con il lag Quando registro sulla Wii o la Wii o comunque E infatti praticamente c'era l'audio del gioco che era in ritardo di un minuto Ma proprio minuti, eh? Non secondi Quindi tipo si era sfasato tutto, anche l'audio del microfono, la webcam insomma Così ho deciso di non caricarlo, non l'ho neanche cosato, non l'ho neanche modificato insomma Comunque adesso siamo qua perché volevo appunto, volevo giocarlo Mario Kart 8 sul canale insomma E ovviamente andiamo online Allora vi dico subito, io praticamente avevo nel primo canale Per chi si ricorda, probabilmente nessuno Avevo una serie sul wifi di Mario Kart Wii Quindi tipo già rendetevi conto degli anni passati Che poi non ho più continuato perché basta Cioè dopo un po' di partite basta Non è che c'è da farci una serie di 100 episodi insomma Comunque io intanto mi sto creando il personaggio che è sempre Toad Anche sulla Wii usavo Toad quindi Allora vi dico subito che la connessione non... Quanta gente c'è? Io vado sempre casuale Vi dico subito che la connessione non è delle migliori Come potete già sapere anche E ve lo dimostrerò perché praticamente ogni... Se riusciamo a finire una gara ci va bene Altrimenti tipo salta la connessione e ci fa rifare la gara Come avete visto non ho molti punti Tipo 1200 punti E 1200... no certo E 200 li avrò persi Per colpa della connessione persa insomma Comunque sì, allora Teoricamente dovrei riuscire a fare 4 gare Comunque adesso aspettiamo che scegliano tutti Non mi ricordo... cioè Tutti scegliendo la pista arcobalena e il circuito gelato Penso che l'altro lo odino Allora momentaneamente siamo stabili Sui 5 fotogrammi non elaborati che sono standard Mi ricordo che ero arrivato a 570 Quindi tipo tutto il video perso Ma perché se ne va la gente? Oh dove andate? Adesso capite? Capite? Allora ok la gente ce l'abbiamo Siamo in 12 non voglio perderla questa eh Voglio farla una partita Se ve lo state chiedendo Tipo ho iniziato a mettere la felpa Perché si muore C'ho tipo i piedi che sono senza calze E tipo sono ghiaccioli Se li tiro contro il tavolo qua lo spacco tutto C'è l'unico che ha scelto quel percorso L'han preso ok L'avevo già giocato ma fa lo stesso C'è uno dell'Austria E due della Germania Che però giocano in 3 della Germania E gente giapponese ovviamente La gente giapponese ragazzi la troverete sempre E' loro il gioco Via si parte Cacchio Yoshi giallo Mi ha rubato anche la cassa Schifoso Oh vi dico subito che io tipo non gioco Da due mesi Tipo Una roba del genere E non sono mai stato Un grande Ma oh non ho preso una cassa Me la fate prendere per favore Fatemi giocare anche a me Però sono secondo Terza Secondo Così a caso Sono primo Cioè raga due Ho preso due casse E due monete È incredibile Mi sembra schifoso Oh grazie Almeno qualcosa Ma 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 Guarda Guarda la bomba Oh raga io settimo Non ci arrivo Ve lo dico subito Se mi schianto Arrivo anche ultimo però A quinto già va bene Però vorrei tipo una posizione Tra i primi tre Se è possibile Tipo Quello lì C'ha la banana Ma sei uno schifoso Vai 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 Guardate Vai 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 Quarto Quarto Va bene Ok calmi Intanto 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 sei riuscito a finire una gara È già È già va bene Poi cacchio 14 punti Sì Non me ne frega molto dei punti Perché appunto come Come vedete Tipo Li perdo Per colpa della connessione Quindi Alla fine non ci posso neanche far conto Però già aver finito una gara Mmm Fa chies Sempre casual Ho tutti qualcosa di tipo timido L'odio io quel circuito Ragazzi c'è un gigante C'è un gigante con gli occhiali Io c'ho paura Siamo in 11 comunque Tipo l'ultima volta che ho giocato online Eravamo in 5 Ho gente dalla Francia Giappone ovviamente Gente dal Giappone Come al solito Però tipo adoro Adoro la canzone Fammi dire Oh attenzione siamo Siamo sui 5 Fotogrammi Cioè non per dire Ma vuol dire che Una gara l'abbiamo fatta bene Cioè posso Posso caricarla Attenzione siamo secondi eh E sto passaggio io non so perché Lo faccio sempre Ma lo sbaglio sempre Oh che sfiga Guardalo Non riesco a passare sulla strada C'ho un tagliero al posto della macchina Guardalo 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 No Usa i trucchi il primo La sfiga Oh raga Siamo secondi È incredibile Cioè il primo Il primo tipo ormai Ha già tagliato il traguardo E sarà tipo A festeggiare Con i compagni Ma non si è mai vista Una gara In cui ero secondo Ovviamente Ovviamente Dove cacchia è poi È lì è lì Oh mamma Si può prendere Si può prendere Beccati questo L'ho tirato indietro Raga Raga Avevo il guscio Dai Ma io sono stupido Forte Beccati questo Alex No guarda che quello C'è i gusci Cosa sono arrivato Terzo Terzo Raga potevo Potevo arrivare secondo Ma terzo va benissimo Cioè Porca vacca Oggi deve essere La mia giornata fortunata Abbiamo Abbiamo fatto due gare Che non sono neanche Tanto male E poi Le abbiamo fatte le gare Cioè di solito Non riesco a finirne una Perché salda la connessione Ma adesso Due ne abbiamo fatte Ok tipo Adesso siamo in dieci Eravamo in dodici Poi siamo in undici E adesso siamo in dieci Probabilmente arriveremo Tra qualche partita A zero Cioè giocherò solo Io Attenzione a nessun giapponese Oh mamma Che è successo Oh uno dei bandieri Dei bandieri bassi Dei paesi bassi Non l'avevo messa la bandiera Cioè sì Però non qua Raga sta pista Che cacchio di pista è Che p... No scusate Ah che è l'autostrada Cacchio ho detto Non ci sono le macchine Che è successo Raga non me ne sono accorto Ma siamo primi Cioè vi rendete conto Siamo primi Pietta E il guscio rosso Schifoso Attenzione Sralon tra le macchine Non fatelo a casa Perché sennò vi arrestano Raga ho cambiato Ma che cacchio Ho cambiato tipo La mappa Sul Sul gamepad Perché si può cambiare Cioè tipo Io avevo Uguale a quello che vedete voi No Solo che adesso Ho messo il circuito E vi fa vedere Tutti Porca vacca E vi fa vedere Dove sono gli altri Cioè li ho seminati O sto giocando da solo Secondo giro Che sono primo Non c'è storia Oh no Però no C'avevo la banana E mi ha colpito il guscio rosso Perché ero di traverso Grazie State a vedere Che ho fatto una gara In primo E adesso Adesso arrivo il secondo Ti sta bene Ci godo proprio tanto Prova a passarmi ancora davanti Che ti tipo vedi Ma io non capisco Ma come fanno ad avere Gli osci colorati Mi sa L'han comprato C'è C'è Il Cosa scaricabile No Sono arrivato primo Raga Sono arrivato primo Gli altri Probabilmente erano ubriachi A marius Gli avranno ritirato la patente Per guidenza di ebrezza E megabat Era sotto effetto Di droghe Probabilmente Mi sa che l'ottavo Non sapeva accendere la macchina E il settimo Aveva finito la benzina Raga Qua mi sa che ci stanno Altre Due o tre Due partite Sicuro Forse se contiamo Anche questa Anche tre Perché Non è Non è niente Che registro Praticamente Poi contando appunto I tagli Che faccio Ma raga Tentiamo di posizionarci Ancora primi Probabilmente Sarà una cosa Impossibile Però Ah qua c'è la scorciatoia Aspettate Vabbè Lì E di solito La sbaglio Raga Non ci vedo niente Porca Io Tipo Mi ricordo che sul DS Quando Quando vi colpiva Il Quando vi colpiva Tipo con l'inchiostro Il calamaro Ecco vedete Sono primo Attenzione sono passato primo Gli altri sono morti E tipo quando mi colpiva Il cosa sul DS Bastava che Bastava che guardavate Sul DS E tipo si vedeva Tutta la pista Solo che qui non si può fare Che bello Ma raga Sono primo Chi è quella lì dietro? Megabat Ma togli Ma dai Ma adesso devi cadere È megabat che c'è il costo Perché è stata colpita Da qualcosa Di Invisibile Raga son primo Son primo di nuovo Vado anche Senza guardare Cioè Mua Son troppo forte Non c'è niente da fare Ho 1302 punti Ne avevo Quanti ne avevo all'inizio? Mille 12 mi sa 1207 La droga mi sa Che sta iniziando Ad avere effetto Siamo di nuovo in 11 Cioè Tutta sta gente Da dove arriva Che poi No vabbè L'ora ok Può darsi Ma io pensavo Che già Molti avessero smesso Di giocare Mario Kart Cioè Nel senso Mario Kart Wii Ha durato un sacco Devo dire Cioè per esempio Anche a distanza Di 2-3 anni C'era la gente Che giocava ancora Però non pensavo Che giocasse ancora Appunto Ovviamente Gente da Da Giappone Una partita giapponese Facciamo Giocano tutti in casa Anche io sto giocando In casa Oh questa 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 Ce la posso fare a dirlo Questa Questa gara Questa pista L'avevo già fatta In un online Tipo quando appunto Stavo registrando E Non l'ho finita Io la odio Questa pista Perché Non capisco mai Dove il pugno di Bowser Cade Cioè So che C'è un modo per schivarlo Perché lo schivano tutti Io lo becco sempre in pieno O mi schiaccia O mi stianto contro Quindi Fate un po' voi Voi Permesso Sono primo Sono primo Cosa sta succedendo Ah ragazzi Sono fermati tutti Sono tutti fermi Che bello Viva l'online Lo sapevo A parte aver perso 14 punti Come ho detto Non me ne frega molto Voglio cambiare macchina Tipo adesso prendo No vabbè Questa è fantastica Non me ne frega Non me ne frega Delle Della Delle caratteristiche Voglio Voglio questa macchina Probabilmente farò schifo Arriverò Tredicesimo Oh c'è C'è ancora più gente giapponese Uno Dalla Umori Giocano solo da lì Gioca C'è solo lì il gioco E si è sconnesso di nuovo Ok basta ragazzi Faccio che Finire qua il video Poi non voglio che venga Troppo lungo appunto Se volete altri video Di Mario Kart Fatemelo sapere Io li faccio volentieri Se anche qualcuno di voi A Mario Kart 8 E Vuole fare una partita Teoricamente Nell'online Quando voi giocate In mondiale Se mi avete come amico Appunto Potete Vedere E unirvi a me appunto Quindi niente Se volete altri video Fatemelo sapere Per il resto Niente Per questo video è tutto Ci vediamo Un prossimo video Forse Su Mario Kart 8 Qui da Lannulf è tutto Ciao a tutti